Il 12 settembre in Piemonte suonerà nelle scuole la prima campanella del 2022 e sarà un ritorno con zero obblighi. Infatti nella nuova circolare inviata alle scuole il 19 agosto dal Ministero dell'Istruzione si dice che dal 31 agosto cadranno tutti gli obblighi richiesti fino ad oggi nelle scuole. Zero obblighi sulle vaccinazioni, zero obblighi sulle mascherine ma con una precisazione, prepararsi ad essere pronti. Per farlo il riferimento è sempre lo stesso, la nota del 5 agosto dove si indicano misure più leggere per il rientro a settembre e misure più severe nel caso in cui ci fosse un nuovo boom di contagi. In estrema sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di positività al covid, igiene delle mani ed etichetta respiratoria che preveda ad esempio di proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse, utilizzo di mascherine per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di covid-19, sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, strumenti per gestione casi sospetti confermati e contatti e ricambi d'aria frequenti. Se il numero dei contagi dovesse aumentare su disposizioni delle autorità sanitarie le misure di prevenzione da adottare sarebbero distanziamento di almeno un metro ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano, precauzione nei momenti a rischio di aggregazione, aumento frequenza sanificazione periodica, gestione di attività extracurriculari ai laboratori garantendo l'attuazione di misure di prevenzione, concessione palestre locali a terzi con obbligo di sanificazione, somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione e infine consumo delle merende al banco. Intanto l'inizio della scuola si preannuncia movimentato, infatti si comincia a parlare di sciopero, richiesto dal sindacato Confederazione e sindacati lavoratori europei, lo sciopero è stato indetto per il 23 e il 24 settembre con le seguenti motivazioni. Contro l'applicazione di un orario di servizio pari a 36 ore per i docenti non vaccinati e per la non specifica del servizio che sarà attribuito al personale ATA non vaccinato, inoltre viene chiesto un aumento dello stipendio di 400 euro per i docenti e di 300 euro per il personale ATA, come da standard europeo, ed anche l'abolizione dei super green pass, la gratuità del costo dei tamponi, introduzione dei buoni pasto per il personale scuola ed infine l'abrogazione della somma di 400 euro per i docenti meritevoli C'è da segnalare però che molte scuole saranno chiuse il 23 e 24 settembre, si tratta delle scuole che verranno scelte come seggio elettorale per le elezioni del 25 settembre e che quindi non ospiteranno le elezioni. Parlando invece di novità, a Biella c'è una new entry nel mondo della scuola superiore, Mario Massazza, che lascia l'istituto comprensivo di Vigliano per andare a dirigere il liceo scientifico Avogadro, rimasto sede vacante dopo il pensionamento di Dino Gentile. Ferdani Aldo avrà invece un nuovo incarico all'istituto comprensivo fratelli Vigliano d'Alessona Brusnengo e lascerà scoperto l'istituto comprensivo Chieppo e Schiapparelli. Cambio anche per Nuccio Stefania che diventerà dal 1 settembre dirigente anche al Biella 3, mantenendo comunque sempre il comprensivo di Cavaglià. Restano quindi scoperti gli istituti comprensivi di Vigliano, Occhieppo, Mongrando e Valdingo. Per queste sedi si deciderà a fine agosto con le nuove emissioni in ruolo.